buonasera e grazie di essere così numerosi stasera allora io pensavo di raccontarvi qualche cosa come introduzione a questa serata e al libro di melania manzucco e poi lasciare spazio a lei per farci raccontare molte cose molto interessanti che sono sicuro verranno fuori allora io ho fatto studi letterari e quando ero all'università si cominciava a parlare all'università di scritture femminili vi parlo di una trentina d'anni fa io ero molto perplesso perché nel mio fuoco giovanile dicevo vabbè ma un artista non è né maschio né femmina perché dobbiamo stare a mettere questi questi compartimenti e con un gruppo d'amici eravamo molto convinti di questa cosa cioè l'artista è l'artista quindi dire che un artista è maschio o femmina è un limite negli anni ho cambiato l'idea di fronte a delle cose che mi sono accadute di vedere di pensare e ve ne racconto una qualche anno fa ho visto sono andato a una mostra di un artista che mi è particolarmente cara che è Maria Lai che forse la conoscete perché lavora con i tessuti e questi tessuti li usa per costruire per esempio dei libri dove le cuciture diventano o le imbastiture diventano una sorta di scrittura su questi tessuti lavori meravigliosi e ero in compagnia di alcuni amici e una mia zia una mia zia insomma di due generazioni più lontana da me e a un certo punto lei mi comincia a far notare una serie di cose in queste cuciture di come era infilato il filo di come tornava indietro che ti permettevano di capire veramente queste opere io mi sono reso conto di una cosa che il tipo di studi che avevo fatto sia artistici sia letterari sia pratici ho studiato anche pittura ma avevano messo nelle condizioni di vedere la pittura l'olio vedere l'acquarello la scultura eccetera eccetera ma nessuno mi aveva mai insegnato cucito il ricamo sembra una banalità però la storia dell'arte è una storia moralizzata dove per molteplici ragioni politiche sociali economiche alcuni mezzi sono stati ritenuti di serie A e altri di serie B come alcune personalità sono state ritenute di serie A e altre di serie B però se noi ci pensiamo e appunto i lavori di Laine sono un esempio eclatante creare una gerarchia tra la pittura a olio e il ricamo è arbitrario è completamente arbitrario però è una condizione storica e allora lì io questa è una delle cose che potrei raccontarvi mi sono reso conto che il mio convincimento giovanile che l'artista non è né maschio né femmina era giusto da un punto di vista di entusiasmo diciamo così esistenziale ma era falso sul piano storico storicamente siamo sempre maschi e femmine non biologicamente storicamente soprattutto quando parliamo di cultura e venendo direttamente a un esempio del libro di Mazzucco c'è un dipinto che poi dopo magari vediamo di Bert Morisot che raffigura una pulla per insomma mi sentite eccoci sì allora questo è un esempio molto preciso perché gli impressionisti la generazione degli impressionisti di cui Morisot fa parte rinnova la pittura sicuramente sul piano stilistico da tanti punti di vista non lavora più per velature ma per tocchi alcuni cominciano a dipingere all'aperto non tutti ma anche per i temi e una delle ragioni che fa sì che il pubblico moderno contemporaneo sia così affezionato a la generazione degli impressionisti è che per la prima volta non vediamo battaglie dei eroi o crocifissioni cioè questi temi diciamo così altissimi ma anche distantissimi ma vediamo la vita quotidiana però dipingere una culla è qualche cosa che è particolare non abbiamo tutti questi dipinti di abbiamo molti dipinti di neonati di Gesù Bambini che però appunto sono ritratti di stato in un certo senso questo è uno di quei casi in cui tu dici storicamente un maschio avrebbe mai scelto questo soggetto da dipingere no probabilmente no il punto non è se un maschio potrebbe o non potrebbe dipingere una culla il punto è che semplicemente questa cosa non è accaduta allora la cosa secondo me meravigliosa del libro che presentiamo stasera è che Mazzucco non ci parla soltanto di artiste ma ci parla di opere e in ciascuna di queste opere c'è uno specifico tematico stilistico di sguardo che solo questi autrici queste personalità potevano tirar fuori potevano mettere a fuoco potevano raccontarci in un certo modo perché dico la grande qualità sono queste opere perché ormai da tanti anni si parla o meglio si parla si sta riscrivendo la storia dell'arte insomma svecchiandola di tutta una serie di rigidezze e soprattutto di gerarchie impostate nell'ottocento e ci si rende conto che il modello ottocentesco oggi semplicemente non ci serve più se voi andate a vedere a tutt'oggi la cronologia di molti manuali di storia dell'arte risente della mentalità risorgimentale cioè noi scegliamo il meglio per dire che cosa come l'Italia è arrivata a essere la terra appunto di santi navigatori artisti eccetera eccetera e il lavoro che è stato fatto dal dopoguerra in poi in vari ambiti dalla ricerca iconografica insomma dallo studio dell'iconografia alla storia sociale dell'arte ha la scoperta appunto di figure o meglio no non la scoperta la scoperta di figure che erano marginali magari proprio perché donne sta cambiando completamente la prospettiva su tutto e questo svecchiamento non tanto di contenuti ma proprio di modelli è qualche cosa di cui abbiamo un grandissimo bisogno insomma per ripensare proprio le categorie con cui noi pensiamo all'arte allora sicuramente dopo vedremo dei dipinti e magari ce li commenti anche però la prima domanda che vorrei farti è come è nato il libro Buonasera a tutte e a tutti intanto grazie a Riccardo Falcinelli per essere qui in realtà questo libro è nato nel momento stesso in cui ho pubblicato il Museo del Mondo con Einaudi abbiamo curato questo volume nel 2014 il Museo del Mondo era stato immaginato come una collezione privata oppure un gioco letterario di quelli che si cominciavano a fare nei musei in cui i grandi musei del mondo hanno chiesto a uno scrittore a volte molto conosciuto ricordo che Pinter ha fatto qualcosa del genere a Londra e altri scrittori l'hanno fatto a Louvre di provare a riallestire il loro museo sono musei immaginari e musei letterari con Repubblica immaginiamo appunto un museo privato una galleria privata curata da me e pensata da me e ho avuto la massima libertà allora di comporre questo mio museo ho scelsi 52 opere che avrei voluto possedere che avrei voluto vedere nella mia collezione privata di grandi maestri però non necessariamente non è un catalogo, non è un canone non necessariamente vi sicurano tutti quelli che ci dovrebbero essere soprattutto selezionando proprio di loro le opere le opere che per me erano più significative di quell'artista o che comunque avevano colpito il mio immaginario la mia memoria, mi avevano creato delle associazioni e avevano generato a volte addirittura delle scritture per fare un esempio c'è Grunewald c'era la crocifissione di Isenheim che è un quadro, una parte di un'enorme macchina scenica quasi pittorica che si trova nel museo di Colmar del quale in seguito avrei appreso che aveva scritto meravigliosamente anche Sebald per esempio un grande scrittore tedesco del ventesimo secolo ma io sono andata a Colmar a vedere quest'opera perché avevo letto Canetti e spesso è la letteratura che mi ha invitato all'arte questo è interessante come circolarità della conoscenza a cui tengo moltissimo a proposito di separazioni e di divisioni quindi c'è quello però c'è non so un'opera di Kandinsky per me essenziale che è una piccola opera un acquerello leggerissimo su china con l'inchiostro di china che raffigura la sparizione della figura cioè il momento del passaggio di Kandinsky all'arte astratta di tutti i capolavori di Kandinsky ho scelto quello per esempio e così via quando siamo andati a pubblicare il museo del mondo sono rimasta un po' scioccata da rendermi conto che avevo selezionato soltanto tre opere dipinte da pittrici una era l'iris nero black iris di Giorgio O'Keefe che figura anche nel self portrait Susanna e Vecchioni di Artemisia e un lanciatore di reti pescatore di Susanne Valadon che mi interessava moltissimo perché mi permetteva di parlare del rovesciamento di ruoli in cui la modella diventa pittore il nudo maschile insomma era un quadro fra i tanti dipinti da Susanna che mi permetteva di dire anche queste cose però lì sono rimasta molto turbata dalla mia scelta perché io ho scritto per il museo del mondo nel 2014 ma sono vent'anni e più trent'anni che come operatrice culturale quindi non solo come scrittrice cioè con i libri che ho scritto ma proprio come attivista nelle scuole nelle università nei circoli di lettura così che lavoro per valorizzare il lavoro femminile l'intelletto femminile il lavoro intellettuale femminile artistico anche ho dedicato anni della mia vita a Marietta Tintoretto che è una pittrice di cui oggi probabilmente non sopravvive neppure un'opera e stavo scrivendo stavo lavorando da anni senza sapere se avrei mai visto la luce all'architettrice insomma Plautilla Bricci un'altra dispersa della storia dell'arte quindi l'idea che ne avessi scelte solo tre naturalmente mi lasciò molto turbata a quel punto ho cominciato a riflettere sul perché era successo tutto questo e ho cominciato a pensare di fatto a questo nuovo volume che in parte tra l'altro colgola il tuo spunto io stessa negli anni della mia formazione ho sempre rifiutato l'idea che esistesse una scrittrice uno scrittore io stessa mi trovano definita scrittore fino al 2000 mi ricordo addirittura anche il giorno in cui questo è avvenuto per l'ultima volta e questo fa capire che io sono una persona del novecento tutte le scrittrici del novecento hanno rifiutato la categoria femminile della loro professione e mi sono resa conto che questo era una assunzione di punto di vista patriarcale e maschile soltanto quando le giovani generazioni cioè ragazze di vent'anni con le quali stavo dialogando di lei così amata mi dissero ma lei si rende conto di parlare di sé al maschile e mi chiedono perché stavo facendo questo e non c'era una ragione militante non stavo dicendo che appartenevo a un altro genere non stavo rivendicando questo stavo sminuendo la possibilità che essere avevo paura che affermare di essere una scrittrice sminuisse mi dividesse a metà invece che rendermi intera e quando queste ragazze ventenni me lo fecero notare in quello stesso momento mi sono resa conto appunto di essere vecchia cioè che avevo assunto un punto di vista che non era il mio e quindi ho decostruito questa visione che prima di me era appartenuta a Elsa Morante che si definiva uno scrittore a Margheriti Ursenar a Maria Bellonci a tutte le donne delle generazioni precedenti ma anche alle pittrici molte delle pittrici che sono in questo volume avrebbero rifiutato la categoria femminile della loro professione perché temevano di essere rinchiuse in un ghetto e sminuite naturalmente però le cose sono cambiate nel ventunesimo secolo questo discorso è un discorso novecentesco adesso invece è profondamente cambiato e quindi possiamo fare un ragionamento completamente diverso che è quello che ho cercato di fare con questo libro che è una specie di nuovo museo del mondo ma diverso da questo ho scelto unicamente opere di mano di donna che avessero anche come soggetto però soggetto femminile quindi che lo fosse due volte per fare una riflessione su appunto il modo in cui gli occhi e la mano di una pittrice hanno usato utilizzato o decostruito i modelli visivi iconografici per lo più ereditati dalla tradizione perché ovviamente dalla seconda metà del novecento in poi questo discorso comincia a incrinarsi e poi forse a sparire ma fino ad allora le pittrici hanno dovuto lavorare e maneggiare materiali che non erano stati creati da loro e quindi come hanno fatto questo che cosa hanno scelto ridipingere quando hanno potuto scegliere oppure come hanno dipinto ciò che non hanno potuto scegliere di dipingere e questo mi sembrava un discorso effettivamente nuovo e volevo fare un libro in questo senso veramente del ventunesimo secolo tanto per darvi un'idea di quello che è accaduto negli ultimi cinque secoli perché uno può dire abbiamo poche artiste nel passato perché socialmente non semplicemente era un mestiere che non potevano fare di fatto le questioni sono un po' più complesse nel senso non solo non potevano farlo ma sono state anche osteggiate nel farlo vi faccio due esempi fino alla seconda metà dell'ottocento gli era vietato partecipare a lezioni di nudo e infatti insomma le artiste che poi sono diventate più note tra 7 e 800 facevano ritratti perché semplicemente non potevano allenarsi in una pratica che era richiesta nella pittura più importante per esempio appunto la pittura di tema eroico ma benedico anche un'altra che è anche più inquietante la retta d'ingresso al Bauhaus che è stata la scuola d'arte e design più importante del novecento costava 30 marchi in più per le donne e questo su esplicita richiesta di Gropius che si era accorto che la richiesta di formazione era più alta da parte delle ragazze e voleva frenarle voleva che ce ne fossero meno e gli vieta comunque di partecipare ai corsi più importanti come quelli di pittura insomma non è soltanto il mondo era in un modo sono state proprio messi dei paletti perché delle cose non accadessero ora ovviamente le cose stanno nella storia e noi le studiamo nella storia però guardare questa carrellata che Mazzucco ci propone aiuta anche molto a riflettere su questa storia e sentire quanto ci riguarda e quanto non ci riguarda più vogliamo vederlo qualche dipinto ce lo racconti? sì dico una cosa a proposito dell'esclusione dalle scuole voi vedete che in copertina abbiamo scelto un'immagine di Pauline Boti o Boti alcuni la chiamano così ma Boti in realtà una pittrice inglese pioniera della pop art importante figura appunto della pop art inglese ci sono delle frasi scritte su di lei e nel momento in cui venne lanciata che oggi riteniamo incredibilmente offensive e sessiste ma in realtà volevano essere addirittura galanti per presentarla al pubblico era molto bella e a un certo punto sulla rivista d'arte che la presentava si dice immaginate insomma i pittori con gente con la barba pensosa e seriosa invece possono essere anche bionde così una cosa enormemente offensiva lei non potesse studiare pittura siamo negli anni 60 in Inghilterra quindi non siamo appunto nell'ottocento nel cinquecento quando non potevano studiare nelle accademie di nudo ma siamo negli anni 60 in Inghilterra non può frequentare i corsi di pittura non c'è una legge che lo vieti però gli sconsigliano tutti di iscriversi ai corsi di pittura perché non sono adatti alle donne ma la dirottano verso la pittura su vetro arti decorative la zona franca nella quale effettivamente fin dal seicento le donne avevano potuto esercitarsi ma questo ancora nell'Inghilterra negli anni 60 quindi è vero che sono stati costruiti dei veri e propri muri per impedire che gli esempi di quelle poche che erano riuscite a superarli questi muri poi generassero una balanga che avrebbe travolto la diga ma la diga c'era e c'è stata veramente fino a pochissimo tempo fa quindi anche diciamo la scelta dell'opera per la copertina si porta dietro tutto questo perché è molto vicino a noi e la sua storia è molto emblematica fu lanciata grazie a un video documentario un video molto bello di Ken Russell che devo dire invece essendo un pioniere del free cinema non si poneva queste questioni quindi la presenta assolutamente alla pari con i suoi compagni d'avventura però invece al di là di questo nella Londra di allora che pure era la Swinging London che insomma era il luogo nel quale stava veramente cambiando il costume del mondo alla fine essere una bella ragazza una bella donna le fu incredibilmente nocivo tant'è che poi dopo la sua morte l'è stata completamente dimenticata le sue opere sono finite in un fienile ci sono rimaste per 30 anni e soltanto molto di recente negli anni 90 insomma è stata ritrovata e rimessa lì dove doveva stare e la selezione è arbitraria questo mi sento di dirlo naturalmente perché ho scelto non necessariamente tutte le artiste che dovevano esserci ma quelle le cui opere mi permettevano di condurre il discorso in un certo modo o per la loro tematica o per la forma nella quale sono state realizzate o per la novità oggettiva con cui hanno affrontato alcuni dei temi dei soggetti insomma classici della della pittura occidentale quindi ne possiamo vedere qualcuno se vogliamo commentare vederlo insieme vabbè questo dico subito una cosa prima di perché perché questo è il filo conduttore naturalmente di tutta questa storia perché è la faccia esterna dello stendardo di Plautilla Plautilla è la mia architettrice qualcuno di voi saprà insomma che a lei ho dedicato il romanzo l'architettrice pezzi della mia vita e Plautilla era neppure più che un nome ormai nella storia dell'arte italiana è stata deliberatamente cancellata perché l'esempio di questa donna era veramente pericoloso e sovversivo Plautilla era riuscita a essere ciò che nessuna donna aveva osato immaginare di poter essere nella Roma del 600 ma neanche nell'Europa del 600 e neanche del 700 e dell'800 un'architettrice una donna che disegna edifici addirittura sacri una cappella che costruisce dirige un cantiere sa di matematica può comandare i capimastri una schiera di operai sotto di sé è un esempio veramente devastante e quindi il suo nome viene cancellato inizialmente perfino dal suo stesso committente cioè dall'uomo che le ha dato la possibilità di farlo e dopodiché è sparita completamente dalla storia dell'architettura e della storia dell'arte ci sono voluti quasi tre secoli perché una donna in Italia si laureasse in architettura è avvenuto nel 1925 pensate lei è vissuta nel 1600 quindi era un caso davvero straordinario e era anche una pittrice notevole e a questo tempo già matura in quadra del 1670 in verità non è neppure un quadro ma era uno stendardo processionare che le fu commissionato da una piccola confraternita di Poggio Mirteto il paesino della Sabina dell'Alta Sabina da cui proveniva Alpirio Benedetti il suo committente principale il suo il compagno occulto della sua vita e comunque l'uomo ombra insieme al quale ha tramato tutte le sue avventure artistiche insieme insomma hanno osato fare ciò che non potevano è un'opera che io ho trovato bellissima fin dalla prima volta che sono andata a vederla nella chiesa di Poggio Mirteto peraltro c'è anche un retro che è una decollazione di Giovanni Battista che non vi posso far vedere che non c'è nel libro ma è interessante perché c'è il discorso del nudo Plautilla non aveva studiato il nudo ovviamente quindi il nudo di Giovanni Battista morto è un po' goffo l'anatomia le donne pittrici non erano forti in anatomia erano molto forti invece nella scelta del modo in cui ha scelto di rappresentare questo soggetto tutto al femminile spesso nelle nascite di San Giovanni Battista non ci sono uomini ma il modo in cui mette in azione i personaggi Plautilla è molto nuovo il quadro è ispirato ad altri disegni dipinti di Pietro da Cortona di Sacchi che era un pittore importante della Roma del 600 e tuttavia è proprio suo sia nell'esecuzione sia nella scelta dei colori adesso si potrebbe dire molto sulla scelta dei colori ma questo è un quadro già settecentesco per la pastellatura insomma è rarissimo perché non c'era nessun esempio in quel momento nella Roma di quel momento forse Maratta lo farà vent'anni dopo Plautilla lo fa da sola chiuso nella sua casa nella quale viveva e inoltre mette al centro della scena questo ho trovato particolarmente interessante il personaggio di una donna anziana non dipinta però in maniera grottesca o caricaturale che era un po' la norma no? cioè di fare quei volti un po' da strega di biancaneve col naso adunco infatti questo è quello che mi colpì la prima volta che l'ho vista perché le vecchie nei dipinti di mano maschile ovvero in quasi tutti sono sempre appunto scelte insomma rappresentate in chiave di commedia devono fare paura o ribrezzo anche le tre età della donna e le tre età degli uomini se confrontate questi vecchio saggio e la strega il vecchio saggio e la strega cioè il Senex è un personaggio venerando autorevole e spesso anche di una grande bellezza no? bellezza morale e quindi bellezza fisica la donna vecchia è una strega fa paura e deve fare ribrezzo però invece Brautilla rappresenta una donna con i capelli bianchi questa è un'altra cosa di cui su cui ho interpellato tutti i miei amici storici dell'arte io ho detto la prima volta ho detto ma io non ricordo di aver visto dei personaggi con i capelli bianchi di donna con i capelli bianchi in un quadro eppure le donne avevano i capelli bianchi anche nel 600 ovviamente soprattutto le donne del popolo che non si ritingevano mi è sembrato un particolare un'incredibile freschezza realistica però non per appunto non provocatoria non caricaturale naturale in una pittrice che peraltro non seguiva il naturale perché lei era una classicista quindi non suo padre si schierò contro il Caravaggio nel 600 il padre di Brautilla era nella stessa bottega del Caravaggio dal Cavaliere d'Alpino negli stessi anni ma Caravaggio andò nella direzione del Vero e il padre andò nella direzione di Raffaello e poi di Guidoreni e dei classicisti e Brautilla comunque segue il padre in quella direzione e però nella sua opera classicheggiante diciamo così rimette delle particolari di realtà che sono anche molto femminili e indubbiamente forse anche perfino femministi di rappresentare una levatrice la realtà è un tema conduttore è una cosa che torna molto spesso in tante artiste c'è l'attenzione a qualche cosa che non si è idealizzato questo è interessantissimo soprattutto per i nudi per esempio perché sul nudo di donna naturalmente c'è da dire tantissimo io quindi ho scelti alcuni perché è un tema che mi ha sempre molto interessato sapevo della storia di Artemisia che è stata una delle poche la pittora che non solo ha rappresentato il proprio stesso nudo cioè ha scelto di usare il proprio corpo in pittura ma poi ha usato anche delle modelle aveva la possibilità di pagare delle modelle nude e ci sono le sue lettere nelle quali racconta la difficoltà comunque per un pittore di procurarsi una modella una modella bella Artemisia si lamenta che spogli ne spogli decine e ne va bene una insomma invece lei doveva fare un bagno di Diana per esempio e le servivano dei nudi veramente belli e non li trovava nella realtà però poi quando andiamo a guardare i nudi che ha fatto Artemisia ci accorgiamo che infatti non sono nudi idealizzati sono nudi molto realistici nella rappresentazione dei seni delle cosce ce l'abbiamo qui il dipinto d'Artemisia e vediamo se ce l'abbiamo abbiamo portato sicuramente il nudo di Giulia Lama e proviamo a vedere possiamo mandare ecco beh pure questo potentissimo questo è bellissimo tra l'altro Giulia Lama a proposito di di pettrici che sono state osteggiate che si sono è un caso piuttosto interessante perché Giulia Lama è una veneziana quindi vive nella Venezia del Settecento è la città del dei piaceri della libertà è il secolo insomma in cui Venezia si libera della sua storia ed entra nel mito Giulia Lama voleva essere una pittrice di pala d'altare perché la pala d'altare l'opera sacra era comunque il genere più prestigioso c'era una gerarchia appunto e quello era il più prestigioso nella Venezia dell'epoca e questo fatto suscitò l'ilarità lo scherno e addirittura il timore degli altri pittori che cercarono in tutti i modi di impedirglielo e quando lo fece la aggredirono e la attaccarono molto duramente i pochi testimoni oculari del tempo dicono che lei fu molto perseguitata che è un termine insomma parecchio forte e visse una vita tristissima agli occhi nostri di posteri perché una vita solitaria una donna sola schernita anche per la sua bruttezza le imputavano di essere brutta non lo era negli autorizia nell'autoritratto che nei ritratti che girano di lei noi non pensiamo affatto che sia brutta ma forse questa bruttezza gli uomini nel suo tempo la vedevano proprio per perché la temevano e quindi la emarginarono così non riusciva a vivere di pittura e alla fine ricamava a proposito di ricami si guadagnava da vivere ricamando però aveva abbastanza denaro per far posare una modella nel suo studio e questo nudo bellissimo tra l'altro è interessante perché non è apparentemente non è stato collegato mai a nessuna opera può darsi che lo fosse ma in realtà si pensa di no e quindi è come se fosse una visione privata uno studio privato per completare la sua formazione ed è interessante perché ci sono nudi maschili lei faceva posare dei modelli nello studio proprio quindi nessuno lo sapeva probabilmente che le servivano poi per le opere che avrebbe dipinto infatti c'è riscontro cioè questi nudi maschili poi si ritrovano nei suoi quadri questo no e quello che colpisce è che Giulia Lama mise la modella nella stessa posizione del modello maschile assolutamente nello stesso luogo con questo stesso si mise anche nella stessa posizione lei stessa per guardare però fece fare alla modella o la modella fece un gesto del tutto sorprendente che è quello di coprirsi il volto con il braccio che insomma devo dire la prima volta che l'ho visto mi sono mi sono chiesta a lungo perché ovviamente il modello nudo del Giulia Lama non lo fa e perché questa modella si copre il volto o perché lei la fa coprire questo mi è sembrato il frutto di un dialogo fra la pittrice e la sua modella che è indubbiamente una cosa diversa e nuova è un gesto che compare poi nelle prime foto pornografiche dell'ottocento questa cosa di nascondersi un po' molto bello quindi c'è da una parte come se la pittrice non volesse rivelare l'identità della modella appunto come nelle fotografie di fino ottocento anche dei bordelli c'era questa cosa oppure la modella stessa che dice guardatemi vi faccio vedere tutto perché poi il nudo è anche molto anatomico quindi si vede effettivamente tutto anche l'accenno di Peruria sul cube eccetera però non vi do il mio volto quindi non vi faccio entrare nella mia anima non saprete chi sono mi tengo per me stessa e questo è qualcosa che nel dialogo fra il pittore e la modella fra la pittrice e la modella indubbiamente nuovo qualcosa di nuovo ne vediamo un'altra? prego questo è il stupendo quadro di Elisabetta Sirani stato rinvenuto non moltissimi anni fa tra l'altro da una studiosa bravissima che è Raffaella Morselli è un manifesto è un manifesto del mio libro che infatti ho scelto in esordio però anche un manifesto della pittrice consapevole di esserno è un quadro firmato adesso nell'ingrandimento probabilmente non si riuscirà a vedere comunque è un quadro firmato sotto la gamba di 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 Porzia è un quadro che le fu commissionato era all'apice della sua fama Elisabetta Sirani bolognese vedete la data 664 è la stessa data in cui Claudilla intanto a Roma sta costruendo la sua la sua villa del vascello e il mercante di Seta le chiede le chiede l'opera probabilmente le commissiona anche il soggetto quindi non è lei che lo sceglie forse questo non si potrà sapere certo il soggetto non poteva essere più congeniale perché è tratto dalle vite di Plutarco e che dedica a Porzia la moglie di Bruto e la figlia di Catone una lunga parte della biografia di Bruto ne fa un ritratto straordinariamente moderno per noi e avvincente perché le restituisce la dignità di moglie e non solo di concubina addirittura mette in bocca a Porzia un discorso bellissimo che Porzia fa al marito dicendo io non sono entrata nella tua casa per essere la tua concubina per procurarti piacere o servirti ma sono qui per dividere la tua vita e la tua vita è anche la politica sono anche le tue passioni politiche e morali e io voglio essere parte di questa vita per dimostrargli di essere degna di partecipare a questa vita lui sta tramando la congiura l'assassino di Cesare Porzia si ferisce alla coscia nel racconto si ferisce con una limetta da parrucchiere nel quadro invece Elisabetta Sirani mette in mano a Porzia un pugnale virile pugnale Bruto rimane nella storia sconvolto dalla forza morale e fisica anche di sua moglie e quindi la metterà al corrente della congiura e la terrà con sé insomma fino all'ultima battaglia quando poi lei tornerà a casa Porzia tra l'altro sarebbe morta con un suicidio degno proprio degli antichi romani perché dopo la morte di Bruto tutti gli amici capirono che lei si sarebbe uccisa e cercarono di impedirglielo e la chiusero diciamo la pegliavano da vicino e Porzia ingannò tutti prendendo dei carboni ardenti si è rimise in bocca e tenne la bocca chiusa riuscì a tenere la bocca chiusa e quindi morì perinamente bruciò insomma e qualche volta nei soggetti dei pittori c'è questa scena di Porzia che sta ingoiando i carboni ardenti ma non c'è mai non c'è mai questa e l'altra cosa che vedete insomma ma che è importantissima è dove mette Porzia Elisabetta Sirani la mette al di qua della stanza delle donne che sono addette ai lavori femminili appunto l'ago il ricamo la tessitura e Porzia sta di qua con il piede sulla seggiola e ti sta dicendo sì questi sono i lavori femminili ma le donne possono essere anche altro e fare anche altro e questo c'è anche nel testo di Plutarco ma chiaramente la pittrice pensa per immagini quindi traduce in immagine tutto il discorso che fa Porzia che Porzia e Beato fanno nel corso della loro storia ed è dunque un manifesto anche per sé cioè Sirani sta dicendo Porzia è questo le donne sono questo io sono una pittrice infatti firma sotto la gamba di di Porzia e la sua stessa vita è stata volta a dimostrare di essere degna di essere un maestro e anche se poi è morta giovanissima in realtà pochissimo tempo dopo aver dipinto questo quadro ma era riuscita non solo a superare suo padre ma a procurarsi anche una fama abbastanza universale al tempo ne vediamo un'altra andiamo avanti eccola questa è la culla di Morisot beh io dico una cosa la meraviglia del del velo perché quello che voi vedete cioè il fatto che noi vediamo quello che c'è oltre il velo non è dipinto stendendo appunto un velo di colore semi trasparente ma quello è fatto di tanti piccoli tocchettini che creano quel tipo di di effetto è una cosa insomma che non era così scontata era proprio da un punto di vista materiale pittorico una novità importante del modo di dipingere infatti questo è interessantissimo perché nessuno se ne accorse cioè tutti quelli che hanno commentato all'epoca questo quadro lo commentarono per il suo soggetto che indubbiamente era molto nuovo perché appunto provate a pensare se vi ricordate di aver visto una cosa del genere però nessuno si accorse o nessuno valorizzò abbastanza insomma la qualità tecnica proprio pittorica di quest'opera in cui Berthe Morisoy esibì veramente una padronanza del mestiere geniale ma nessuno comprò per esempio questo quadro che è rimasto invenduto è rimasto un'opera intima che alla fine è rimasta a casa della pittrice ed era per noi anche oltre il discorso pittorico che si deve fare insomma per vedere anche le varie maniere in cui lei ha dipinto le figure per cui la figura femminile dipinta in un certo modo il velo in un altro lo sfondo in un altro ancora la neonata in un altro modo ancora e noi sappiamo anche chi sono questa mamma e questa bambina che forse almeno per adesso per me loro sono la prima volta in cui si vede una bambina così piccola nella storia della pittura con sua madre questa è la sorella di Morisoy e questa è la sorella e Edma si chiamava Edma e noi sappiamo dai dai quaderni insomma di Bert che le due sorelle erano cresciute insieme erano molto vicine d'età si erano giurate anche di restare insieme di non sposarsi e di continuare a dipingere erano state incoraggiate nella pittura inizialmente dalla loro famiglia molto ricca e illuminata aveva dato loro le possibilità di studiare con dei maestri importanti poi a un certo punto uno dei maestri mise in guardia la madre e le disse signora Morisoy ma sta diventando una professione siete sicura che volete che le vostre figlie lo facciano veramente e la madre disse di sì addirittura insomma le lasciarono proseguire e sposero insieme al salon le due sorelle e però a un certo punto come spesso accade una delle due si innamorò e si sposò ed ebbe una bambina questa bambina e finì la sua carriera di pittrice come spesso succedeva allora c'è un'altra pittrice importante nel nel museo delle donne Benoit si chiamava di cui vedrete un bellissimo ritratto di di donna nera la Negresse si chiamava Portrait de la Negresse ora chiamato Portrait de Madeleine Benoit era una pittrice piuttosto talentosa neoclassica dopo il matrimonio praticamente a un certo punto quando il marito diventò una figura importante dello stato francese dovette completamente interrompere e smise di dipingere spesso era era quello che accadeva quindi questo quadro è un po' anche un congedo è un'elegia per la sorella per la maternità che a cui Bert guarda con tenerezza però anche con si ferma un passo indietro non lo so vedete dove si è messa sulla soglia sta esitando lei non è sposata in quel momento si sposerà avrà una figlia non lo so lei per adesso si limita a osservare la nascita di un sentimento profondissimo che ha separato ovviamente la sorella da lei e poi anche dalla pittura poi in realtà Bert Moriso si sposò con un uomo che seppe accettare l'idea che sua moglie fosse una pittrice però è famosa la frase che lei ha detto alla nascita di sua figlia a sua volta un po' di tempo dopo e disse peccato che sia una femmina e questo che a noi oggi suona molto forte naturalmente ci fa capire tutto quello che le sorelle Moriso come pittrici avevano dovuto subire possiamo rimetterlo un attimo soltanto io vi invito a guardare il gesto della bambina cioè chiunque ha visto un bambino piccolo sa che fanno quel tipo di movimento quando dormono con la mano dietro la testa se noi guardiamo tutti i bambini prima di questo quadro sono dei putti cioè sono delle figure plasticose sono dei bambolotti cioè quel momento di verità è una roba ad una potenza incredibile questo è un invito questo forse è anche il ritratto più precoce della storia della pittura perché qui c'è Simona che è la figlia della pittrice ha tre settimane di vita Antonietta Raffaella ha una storia avvincente che non mi metto a raccontare ma era un'esule oggi diremmo lituana in realtà russa era passata da Londra perché la sua famiglia dopo la morte del padre rabbino emigrò in Inghilterra ma Antonietta poi decise di venire a Roma di regalarsi un anno di studi insomma forse non sapeva ancora di voler diventare pittrice stava cercando di capire cosa voleva fare della sua vita aveva sognato di diventare pianista e partì da Londra con una valigia piena di pochissimi oggetti arrivò a Roma e da lì non se ne è mai andata e questa opera era praticamente una delle prime perché mentre venne a Roma si iscrisse all'accademia dove le donne potevano studiare nudo ancora negli anni 20 c'era questo problema ce n'era una sola dove lo potevano fare e lì incontrò Mafai e si innamorarono l'uno dell'altra essendo due personaggi antitetici lei una donna esuberante più grande d'età stravagante che parlava decine di lingue che aveva vissuto già parecchie vite lui sornione come un gatto del Pantheon si sposarono cioè non si sposarono ancora andarono a vivere insieme e ebbero una prima figlia Miriam ma a quel tempo lei non avrebbe potuto definirsi ancora una pittrice quindi è da questo momento con questo quadro della figlia della seconda che mi piace immaginarlo come una seconda una doppia nascita quella della bambina e quella di sé perché da questo momento in poi lei è firmato il quadro lo vedete in basso a destra si rappresenterà anche in un autoritratto prima con il violino in mano quando ancora forse non sa che cosa sarà e poi diventerà invece un artista che ha avuto una vita difficile come artista perché nonostante fosse parte della scuola di Via Cavour come è stata chiamata insieme a Scipione a Mafai e a Scipione lei veniva sempre considerata un po' l'accessorio di questa scuola mentre ne era ovviamente parte integrante le loro pitture nascevano da canite discussioni riflessioni lei aveva uno sguardo cosmopolito era stata a Parigi era stata a Londra aveva portato veramente una grande novità anche nella pittura romana degli anni 20 ma questo non le venne mai riconosciuto non espose una sola volta in 1929 e poi praticamente si deve andare al dopoguerra insomma per ritrovarla quindi è una storia anche essa molto emblematica anche emblematica dei rapporti d'artiste con la critica per esempio perché c'è una famosa frase di Roberto Longhi su di lei che a noi sembra molto positiva per esempio perché Longhi la definì la nipotina la sorellina di latte di Chagall quindi noi diciamo beh però ha subito colto in piccolo sempre qualcosa di minore naturalmente in diminutivo e poi però bisogna leggere tutta la frase che invece non era un complimento in realtà diceva che era un'arte comunque stravagante anarcoide e non era destinata a nessun futuro e quindi anche la storia di Antonietta insomma io la trovo estremamente emblematica inoltre mi piace far vedere la bimba in fasce perché di bimbi in fasce effettivamente la storia dell'arte ci ha lasciato traccia perché Gesù nei pochi bambini che sono stati che sono i pittori sono stati autorizzati insomma a dipingere nella storia sacra è quasi sempre o Mosè nella cesta o Gesù in tutte le sue forme dalla nascita e Gesù fasciato questo vi fa pensare sicuramente a Bellini e vedete che è fasciato nello stesso modo peraltro le fasce si usavano ancora tra l'altro a quell'altezza temporale quindi è un dettaglio nello stesso tempo realistico poetico pittorico e poi insomma nell'uso del colore nella semplificazione dell'immagine così Antonietta stava veramente guardando le avanguardie francesi portando qualcosa di nuovo che però lì per lì non sarebbe stato riconosciuto insomma nella Roma di allora questo eh questo intanto vedete il nome Plautilla mi è molto cara Plautilla Nelli perché è grazie a lei che io ho incontrato Plautilla Bricci perché Plautilla Nelli meritava una voce nell'abbecedario pittorico del Settecento che io consultai moltissimi anni fa e in appendice alla vita di Plautilla Nelli veniva inserita la mia Plautilla Bricci quindi se non ne fosse esistita Plautilla Nelli probabilmente di Plautilla non sarebbe rimasta alcuna traccia eh Plautilla Nelli era una suora in realtà noi dovremmo chiamarla suor Plautilla Nelli era una suora domenicana della Firenze eh del Cinquecento eh la conosciamo perché Vasari le ha dedicato una biografia una delle pochissime biografie eh di pittrici e di artiste delle sue vite Vasari ha visto le sue opere quindi le descrive con grande precisione e ci permette ha permesso poi agli storici dell'arte negli ultimi anni di identificare questa per esempio che ormai non si sapeva più di chi fosse ed era finita nei depositi del museo eh come potete vedere qui siamo a metà del Cinquecento quando per dare un contesto Lorenzo Lotto dipinge l'annunciazione famosissima di Re Canati col gatto che si imbizzardisce alla vista dell'angelo e eh Tiziano dipinge le sue modernissime annunciazioni eh nebulose un po' inquietanti insomma eh invece questo qui lo vedete subito è una impaginazione antica antichizzante arcaizzante qui c'è una suora che la che ovviamente sta in convenza da quando ha 14 anni ha potuto formarsi ma dentro il convento indirettamente grazie a un frate un domenicano Paolino che a sua volta aveva ricevuto in convento le nozioni di pittura da frate Bartolomeo erano tutti allievi diretti o indiretti di Beato Angelico e la storia di questi modelli di bottega che passano da Beato Angelico per frate Bartolomeo Paolino e Plautilla è toccante perché Paolino lasciò probabilmente proprio a Plautilla volutamente insomma tutti questi materiali e lei si forma un po' da sola un po' con questi materiali di repertorio antichi chiaramente non sono aggiornati e non possono esserlo perché Plautilla non esce a vedere quello che stanno facendo i pittori del Cinquecento né vuole farlo perché probabilmente il pubblico i suoi committenti le chiedono delle opere alla maniera del Beato Angelico e lei cominciò ad avere un grande successo al punto di diventare priora del convento per i suoi meriti artistici il convento viveva delle sue rendite cioè per un periodo il convento di Santa Caterina si reggeva grazie alle vendite dei quadri di Plautilla che addirittura diventò maestra di bottega perché mise su una bottega di pittura con undici suore giovani che erano garzone e apprendiste e poi diventarono anche pittrici con lei quindi un caso imprenditoriale veramente enormemente interessante e quindi in questo caso l'ho scelto per raccontare come è stata sempre letta anche la storia dell'arte perché Vasari dice che insomma se avesse studiato se si fosse aggiornata avrebbe potuto essere una grande maestra e io ho proposto una lettura invece di usare un'avversativa cioè nonostante non avesse studiato non avesse potuto aggiornarsi Vasari dice non aveva potuto vedere la vita cioè lei ha dovuto dipingere pittura dalla pittuna perché stava dentro un convento di clausura da quale ovviamente a metà cinquecento non poteva uscire ecco nonostante tutto questo questa monaca è riuscita ad essere una pittrice e oggi tra l'altro a Firenze è stata ritrovata con molto amore devo dire da parte voi dei curatori dei musei per cui oggi a Firenze se vi capita di andare al museo di Santa Maria Novella vedete addirittura un'ultima cena cioè una donna che ha dipinto un'ultima cena e vedete al museo di San Marco delle sue palette molto interessanti anche da un punto di vista iconografico a proposito di soggetti piuttosto nuovi insomma sui quali lei ha dovuto proprio inventarsi un'iconografia quindi pian piano la strada insomma per ritrovare alcune di queste pittrici è stata scoperta ecco no 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 ti ascolto molto volentieri poi dopo dico perché questa il soggetto è lo stesso l'annunciazione è un'annunciazione mi piace immaginare che sia l'ultima annunciazione figurativa almeno l'ho scelta così è stata dipinta da una pittrice cubana negli anni 60 poco prima che abbandonasse la pittura anche lei per un lungo periodo Antonia era cresciuta in un sobborgo dell'Havana una famiglia poverissima ovviamente non era destinata a diventare pittrice peraltro era menomata da una grave malattia quindi la madre aveva pensato per lei un destino di sarta insomma la madre era sarta e Antonia invece vuole studiare pittura la famiglia poverissima comunque lo fece fare e lei fin da giovane poi si unì a un gruppo di astrattisti espressionisti rivoluzionari quella in primo piano è una macchina da cucire appunto infatti a un certo punto lei aveva dipinto anche delle opere politiche all'avvento della rivoluzione e poi ha dichiarato in un'intervista che a un certo punto vide un'opera che io non conosco e non sono riuscita a rintracciare di un'annunciazione di una pittrice brasiliana e lei disse questa era un'annunciazione moderna e disse anche io voglio fare un'annunciazione moderna però voglio farla tenendo conto insomma di quella che è stata la storia delle annunciazioni lei sostiene di essersi ispirata a Giotto in questa annunciazione però voleva fare un'annunciazione moderna e popolare quindi che cosa sceglie chi sceglie per Maria cioè cos'è per lei Maria Maria è una sarda che ha una macchina da cucire noi sappiamo che la madre di Antonia era effettivamente una sarda la rappresenta con questa specie di capelli cioè bigodini nei capelli quindi sta a casa sta sciattamente seduta nella propria sedia di lavoro e viene visitata da una creatura indubbiamente demoniaca che sembra un po' uscito da una parte da un quadro di Enzo dove è una maschera dall'altra una maschera carnevalesca quelle di carta pesta che si usano anche in America Latina nelle serate del carnevale è una cassa toracita scheletrica la sua mano è un artiglio è un mostro volante un pipistrello è un angelo della morte almeno evidentemente questo la donna accoglie il messaggio con spavento terrore è la prima volta che scusi è l'arcangelo Gabriele che annuncia la maternità ma la maternità è anche il ciclo della vita e della morte e probabilmente solo una pittrice insomma ha osato connettere in maniera così radicale l'idea che dare la vita intanto c'è il partorirai con dolore almeno la prima cosa che mi viene in mente del terrore della gravidanza che questa donna rivela però è anche vero che poi nel vangelo stesso c'è il nesso insomma fra la dare la vita e dare la morte tutto ciò che nasce muore e questo in fondo è la rilettura che ci sta dando la la Antonia e è interessante che poi qualche tempo dopo avrebbe abbandonato per molti anni la pittura non si è mai lei non ha mai detto perché si è pensato perché non voleva nel momento in cui la rivoluzione poi cominciò a chiederle di a tutti i pittori e tutti gli artisti di impegnarsi di dipingere un certo tipo di soggetti forse lei non volle farlo non si sa se con questa ragione per molti anni si è dedicata ai poveri del suo quartiere il suo barrio e a insegnare loro un mestiere la carta pesta tra l'altro questa maschera sembra già una maschera di carta pesta in maniera che potessero trovarsi da vivere poi molti anni dopo è emigrata negli ultimi anni della sua emigrazione in lontananza è tornata sul tema della maternità con altri con dei quadri molto belli degli anni 90 ma devo dire altrettanto dolorosi 30 anni dopo la sua maternità è sempre collegata alla morte una cosa che volevi dove sono messe le figure no no dove sono messe le figure mentre parlavi mi è venuto in mente delle cose che ho sentito cioè di cui ho parlato con delle amiche ma anche con mia moglie mi hanno detto che quando hanno saputo di essere incinte non è stata immediatamente felicità ma è stato anche panico disorientamento adesso finisce tutto e quindi adesso mentre parlavi io quello ho visto dentro dentro al quadro in questo senso ho pensato che mentre Plautilla Nelli doveva ereditare un'immagine di un consenso di un consenso non passivo perché poi è interessante perché la Maria di Plautilla Nelli guarda l'angelo negli occhi cioè accetta consapevolmente tuttavia la paura di uno sconvolgimento che sarà uno sconvolgimento fisico sarà uno sconvolgimento della vita sarà anche il rischio della morte in queste adesso non voglio dirlo ma ci sono molte artiste che hanno pagato con la vita la maternità perché si moriva di parto cioè qualcosa che va ricordato naturalmente ancora negli anni 50 60 di Cuba ma in Italia negli anni 50 e nell'ottocento e nell'inizio del novecento ci sono parecchi artiste che hanno voluto a un certo punto osato essere madri non rinunciare a questa parte della loro esistenza nel momento in cui molte di loro si sono sentite sicure di poter continuare a dipingere e poi sono morte però e hanno pagato questo desiderio di totalità con un prezzo altissimo quindi credo che il quadro ricordi quantomeno come memoria della specie anche tutto questo e questo? e questo è anche un omaggio a un artista torinese che voi conoscete probabilmente meglio di me in realtà che è stata negli ultimi anni anche un personaggio importantissimo della dell'arte italiana è stata riconosciuta premiata alla biennale quindi ha goduto di quel riconoscimento che molte delle artiste invece di questo libro non hanno non hanno trovato mi piace ricordare che molte donne di questo libro molte artiste sono vissute tantissimo ci sono parecchie quasi centenarie e sono morte creando a 98 anni a 99 anni sono morte giovani pur essendo infinite il caro rama è stata una di loro anche se io in questo caso ho scelto un'opera del 41 una data se accostate la data all'immagine diciamo già insomma vi rendete conto un po' della novità rappresentata da quest'opera che fa parte di un ciclo che si chiama appunto appassionata che Carlo Rama non ha mai mostrato perché non riuscì a esporlo negli anni 40 furono diciamo il luogo dove doveva esporli che peraltro non era neanche una vera galleria ma comunque ricevette il divieto per oscenità e quindi non questi acquarelli sparirono e furono ritrovati soltanto negli anni 70 peraltro grazie anche a Lea Vergine che è un po' il nome tutelare di tutto questo libro e invece forse è una delle cose che amo di più di Carlo Rama che in seguito avrebbe lasciato la figura la pittura figurativa per una pittura materica non figurativa informale usando oggetti e alla fine anche facendo quasi soprattutto installazioni qui invece c'è c'è l'immagine c'è un manicomio lo vedete o lo immaginate subito guardando quelle cinghie di contenzione che pendono da un letto privo di materasso nel quale la donna è stata comunque legata è stata amputata quindi mutilata della possibilità di scappare non ha più le gambe non ha più le braccia o di indossare le scarpette e di indossare le famose scarpette rosse che non so agli amanti delle fiabbe come me ricorderanno una tremenda fiabba di Anderson le scarpette rosse che sono il grande desiderio della protagonista di quella fiabba che sono il desiderio della fuga dalla sua triste vita e però anche della realizzazione di una parte nascosta di sé il ballo la passione del ballo e avrà le sue scarpette rosse non le scarpette di stracci che le consentono in quanto povera ma delle vere scarpette rosse solo che quelle scarpette rosse sono le scarpette del diavolo e appena la indossa la ragazzina comincia a bestemmiare comincia a comportarsi male a non rispettare nessuna regola a ballare a ballare scatenandosi e non si può fermare più non si può fermare e non può togliere le scarpette e alla fine nella favola le potrà togliere solo amputandosi i piedi quindi le scarpette sono un po' il veicolo del desiderio del sé più profondo spesso sono state le scarpe sono associate alla sessualità femminile naturalmente e anche quel quadro come avete visto lo è perché la donna è estremamente erotizzata il sesso è la cosa quel rosso sangue il sesso le scarpe sono dipinte con lo stesso colore è un sesso è amputata ma non vediamo ferite sul corpo ma la vagina sembra una ferita la vagina sembra stillare sangue quindi è il sesso il punto di questo il focus di questa punizione è probabilmente una sessualità desiderata di vita vissuta e a cui non rinuncia comunque la donna mutilata sul letto ha una lingua viperina che esce dalle labbra e poi sembra avere una specie di non saprei se definire un'aureola o un qualcosa di vegetale una coda di pavone comunque questi capelli magici anche essi anche i capelli delle donne ovviamente hanno mille implicazioni simboliche e poi c'è la realtà manicomiale che aleggia su tutte le diverse su tutte le ribelli io sono molto affezionato a questo quadro perché il mio primo libro torinese peraltro il bacio della medusa era nato proprio dalla visione delle fotografie delle internate nei manicomi piemontesi d'inizio secolo tra le quali magari c'era anche la madre di Karol Rama perché la madre di Karol Rama per un periodo fu internata in manicomio e Karol Rama ha raccontato che alcune delle sue opere sono state proprio ispirate al ricordo delle visite che lei bambina faceva adolescente aveva 12 anni faceva alla madre e quello che l'aveva turbata non era tanto vedere la madre rinchiusa perché naturalmente anche quello era vedere queste altre donne prigioniere e libere della loro follia quindi che giravano nude nei corridoi che gridavano che dicevano oscenità e che comunque erano state appunto amputate della vita però non erano state azzerate e nello stesso tempo c'era il terrore di essere di finire come loro perché anche lei si sentiva diversa sentiva di di volere cose diverse che gli altri che la società non avrebbe mai accettato e dall'altra parte l'attrazione per la follia che lei ha bordeggiato tutta la vita di cui diceva di essere guarita lei aveva una malattia mortale da un'artia tropicale l'ha definita mia malattia però era la pittura era l'arte e quindi l'arte l'ha liberata e l'ha salvata e poi è vissuta appunto molto a lungo diventando anche una stella della città di Torino e poi dell'arte italiana io so sposterei un po' discorso ti voglio fare una domanda d'altro tipo allora io spero che dopo questa serata molti di voi se non tutte e tutti leggeranno il libro di Melania è un libro scritto molto bene allora uno dice vabbè questo è scontato presenti un autore che fai dice che scrive male è ovvio che uno dovrà dire che è scritto bene mi riferisco a un'altra cosa questo è un libro che parla di arte quindi è un libro che ha un aspetto saggistico ma se noi andiamo a vedere nell'attuale mercato editoriale quali sono i libri che parlano di questi argomenti noi abbiamo da una parte una saggistica diciamo così accademica non scritta bene cioè scritta in maniera corretta ma incredibilmente noiosa e poi abbiamo la divulgazione che in altre maniere è una scrittura corretta ma anche quella molto inerte questo è un libro letterario cioè è un libro che uno al di là di quello che impara di quello che scopre dei contenuti in senso stretto che caratteristicano la saggistica ha proprio il piacere di leggere e Manganelli avrebbe detto che è un libro che ti porta dentro il rumore della prosa allora siccome Mazzucco non scrive ha scritto vari tipi di libri io vorrei chiederti qual è il tuo rapporto di scrittrice quando affronti la diciamo la narrativa e quando invece ti confronti con questo tipo di scrittura eh perché io non ci ho mai fatto caso questo me l'aspettavo nel senso che credo in questo senso di avere introiettato in tutti questi miei anni artistici di frequentazione di pittori non tanto anche qualche artista vivente naturalmente ma soprattutto di maestri dei quali mi sono occupata in questi anni l'idea che il mio mezzo sia uno ma mi permette di fare tante cose quando guardo Tintoretto che è stato il mio maestro lo considero tuttora il mio maestro Tintoretto sapeva fare tante cose e a seconda di quello che doveva rappresentare cambiava però noi riconosciamo che è sempre Tintoretto quindi lui nei suoi ritratti ha una pittura incredibilmente scarna non c'è praticamente nulla non faceva nemmeno la famosa finestra col paesaggio a stento c'è un vestito che spesso faceva fare anche i suoi assistenti perché non gli importava nulla neppure del robone della pelliccia non la faccia gli occhi il naso lo sguardo della persona che posava davanti a lui e il rapporto di questa persona col tempo con se stesso questi sono i suoi ritratti poi doveva fare quei quadri giganteschi per i quali si era inventato questa misura il Tintoretto una misura smisurata e pensate che il paradiso è grande quanto un campo di calcio cioè una cosa enorme e lì quello che gli serviva invece era l'effetto epico d'insieme quindi poteva lasciare alcune figure addirittura abbozzate perché dal basso si sarebbe comunque visto il gesto e la cura l'era nella composizione era dove mettere le figure affinché dessero quell'effetto in altre opere che doveva andare a mettere in una chiesa gli interessava l'effetto della luce sapeva che lì la luce entrava solo alle sette di sera il resto sarebbe stato buio come far emergere da questo buio i volti e li metteva in un certo modo ovviamente è strano però è l'unico paragone che mi viene in mente perché quando scrivo qualsiasi cosa io scrivo sono sempre io naturalmente e quindi guardo le cose sempre nello stesso modo però so che in questo caso per esempio mi sono sempre quando ho scritto di quadri mi sono imposta una misura come se avessi una tela piccola un formato imperatore tela da testa tela da imperatore ho questa misura in questa misura devo riuscire a dire delle cose se scrivo un romanzo la misura mi viene data dalla storia so di non avere misura ma è la storia che me la impone e il mio stesso respiro di scrittrice i miei romanzi sono quasi tutti lunghi uguali è una cosa abbastanza impressionante non è mai stata voluta però più o meno hanno lo stesso numero di pagine e quindi evidentemente è il mio tintoretto è la mia misura personale e a volte la misura ti impone uno stile o comunque una contrazione verbale un'attenzione al ritmo di un certo tipo però sono tutte questioni stilistiche in effetti per me non è il contenuto del libro che determina questo è il modo in cui io devo raccontarlo ovviamente sempre raccontarlo perché quella è la mia misura di scrittrice anche quando ho scritto una biografia di mille pagine di cui 200 di note comunque l'ho scritta io quindi è normale che pur contenendo tutto quello che ci deve essere in una biografia nel genere biografico quindi le note i riferimenti di tutto però lo stile della scrittura rimane quello mio che si adegua però di volta in volta alle storie raccontate quindi una storia contemporanea sarà scritta in un certo modo in storia seicentesca come quella di Plautilla aveva bisogno di un colore il colore del tempo e per il colore del tempo mi servivano delle parole queste parole dovevano essere le parole di quei personaggi più o meno e così come in questo caso quello che mi serviva era di lavorare sulle forme sui colori cercando di valorizzare ciò che stiamo guardando dando la possibilità di guardare insieme non dire troppo neanche troppo poco talvolta e quindi buttare lì qualche goccia di come faceva Beth per il velo insomma per far vedere quello che ci sta dietro grazie sì 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 allora noi abbiamo stasera qui con noi il direttore del Castello di Rivoli che mi piacerebbe insomma ospitare un attimo qui sul palco se vuole commentare un po' di quello di cui stiamo parlando benvenuta buonasera mi sento un pesce fuor d'acqua pur essendo donna e dunque nel senso che non innanzitutto ringrazio dell'invito e ringrazio molto della opportunità di di leggere questo libro devo dire la verità ne ho letto solo metà perché mi piaceva moltissimo mi piace moltissimo a tal punto che l'ho portato con me in Germania sabato venerdì per poterlo leggere tutto e poi l'ho prontamente lasciato nell'albergo per cui ho continuato a leggerlo sul pdf che è un'esperienza completamente diversa e quindi pensando che fosse un pre-consuntivo del museo l'ho dovuto lasciare perché leggo sul computer soltanto le cose come i bilanci pre-consuntivi e quindi fortunatamente oggi il libro nella seconda coppia la prima è a Castle in un vecchio convento che è diventato un albergo per il prossimo ospite la seconda coppia mi fu data allorché terminavo una conferenza oggi alle gallerie d'Italia e pensavo follemente di poterlo leggere tra le tre del pomeriggio e adesso la seconda metà questo è impossibile quindi mi riprometto di terminarlo e non ho fatto i compiti del tutto ci ho detto quando ho cominciato a leggerlo ho pensato la cosa che lei ha detto un attimo fa cioè è rarissimo leggere qualcosa sull'arte che è scritto in maniera vincente rarissimo non lo so perché quindi il pensiero che più ho avuto è bisognerebbe chiedere a Melania di riscrivere il catalogo della collezione di Rivoli perché sarebbe molto più leggibile nel senso proprio e poi mi sono chiesta ma perché e una delle ragioni è c'è una ricetta is a recipe nel modo in cui ogni che si ripete è metodologico diciamo che è una conoscenza diciamo della storia dell'arte dal punto di vista dell'analisi di un quadro diciamo tradizionale da università quindi volevo chiedere lei ha studiato storia dell'arte? è tutto self done self learned ok ma comunque ha letto chiaramente come si legge un quadro quindi dal punto di vista della struttura o della pennellata o del significato diciamo da quel punto di vista combinato con l'altro pezzo della recipe è la biografia dell'artista cioè piace moltissimo parlare della persona cioè questa vita di Antonietta Raffaele questa vita di queste donne e c'è un equilibrio tra questo aspetto biografico e l'aspetto di analisi del quadro che è molto diverso da come io guardo le opere d'arte perché noi ci insegnano di che è una cosa assurda ma ci insegnano a togliere la biografia quindi eccetto a eccezione di una lettura psicoanalitica dell'arte che permette la lettura anche biografica per il resto noi guardiamo le opere d'arte senza guardare cosa succedeva tra Mario e Marisa Merze e nemmeno conosco il nome di battesimo il cognome di Marisa Merz tanto era un uomo you know a man's world che nemmeno so com'è nata il nome suo di battesimo stavo riflettendo per cui d'altro canto ci sono altre cose che quando guardo un'opera d'arte faccio subito e mi rendo conto che non è universale dal fatto che Melania non lo fa per esempio quando ho visto il primo quadro nel libro la porzia la ritratto di porzia sì cioè la prima cosa che mi salta gli occhi è io la mestruazione la dipingo cioè ci sono dei pattern sulla stoffa che sono quasi un simbolismo di una vagina cioè una sorta di diamante dentro un altro diamante che è nella stoffa rossa ma la gamba è una cosa così comune quando si è a scuola si ha 17 anni non si va a cambiare il pannolino o il whatever si usa e c'è proprio in quel punto cioè quando arriva la gocciola di sangue a quel punto della gamba accidenti devo fare qualcosa bisogna andare ai ripari non è più soltanto la mutandina rossa di sangue quindi per me quel quadro è io sono donna e io dipingo la mestruazione questo viene da stavo pensando a un quadro che non è in questo libro ma che ho voluto o piuttosto Anne Imhoff ha voluto esporre nella sua mostra personale al castello di Rivoli che è il Sansone d'Alila di Artemisia la cosa che salta gli occhi a me di quel quadro è la concomitanza quello che crea un buon artista è quando il contenuto della forma e la forma del contenuto coincidono e quindi la tecnica rappresenta la stessa visione politica politica in senso lato della polis del quadro quindi è come dire un William Kentridge la cancellatura è la cancellatura dei corpi neri in Sudafrica oltre a essere la cancellatura dell'opera d'arte da un certo punto di vista quindi coincidono in quel quadro Sansone è dipinto molto male sono banali i rapporti tonali e coloristici oltre a essere gli è tolto il potere perché Dalila ha tagliato il capello e la ciocca e c'è questa alleanza con la cameriera che è questa alleanza intrasociale di donne aristocratiche e donne non aristocratiche contro questo potere maschile ma è molto più sottile la pittura nella parte che rappresenta Dalila è molto più avanzato quindi l'artista ha anche impoverito questa tecnica questo tipo di meccanismo di lettura è più tipico di me per cui quando ho visto l'Antonietta Raphael esempio bellissimo io adoro l'Antonietta Raphael e mi viene in mente che queste fasce sono anche cioè è la sua nascita come hai detto posso dare no continuo con lei no 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 per carità no no e sono veramente felice di essere accanto a una persona ancora dieci minuti di passare di proporre il tu a una persona che rispetto così tanto per la sua incredibile capacità e forza di volontà tra l'altro essere donne scrittori ma quella quadro è una sua nascita come pitrice sì e si vede nell'aspetto bipartito della struttura cioè la parte sottostante in fasce è la parte dell'astratismo e quindi è la parte che ritorna anche a una certa idea di avanguardia che è stata molto anche maschile dell'inizio del secolo la parte superiore è questa nascita della pitrice che con le sue mani e questa figura ed è molto più ricco meno piatto è più ricco ed è quindi interessante come quadro perché combina il figurativo e l'astratto senza quella opposizione tipica della scuola romana o diciamo di scuola di via che è quella di opporre diciamo il realismo figurativo a un astratismo precedente eccetera quindi c'è sempre nelle donne questa sorta di complessità una cosa che noto è che e poi ho adorato che ci fosse Gabriele Monter che è molto meno nota del marito Kondinsky anche Mariana Verevkin molto meno nota del marito eccetera questo è bellissimo noto che sì che è un libro sulla storia non dell'arte ma della storia delle donne ma la storia peraltro nel mio percorso chi ha portato a questa attenzione è Griselda Pollock quindi perché Griselda era una maestra insomma il suo museo immaginario femminile non Lea Vergine che ovviamente per mille ragioni era Griselda ma è una storia della pittura cioè questo è è importante ed è la pittura occidentale europea quindi anche se ci sono figure insomma per esempio la Raffaele che è di Tuana Russia recentemente ho visto un lavoro bellissimo di Alexandra Exer che non conoscevo nella mostra degli artisti ucraini aperta a Thyssen-Bornemizza molto importanti come artista tra l'altro anche lei non conoscevo lui continuo anch'io a scoprire cose che non conosco ma diciamo che è interessante che una scrittrice una narratrice che quindi dà valore allo storytelling si leghi tanto alla biografia questo è rinfresca e permette ai non esperti di avvicinarsi all'arte di più perché quando si capisce che un artista è un essere umano che ama che soffre che vive una vita come tutti è più facile per il pubblico entrare in rapporto con l'opera e quindi è una via secondo me importantissima che noi nei musei dobbiamo guardare e riprendere è una sorta di via maestra antica pre-strutturalista pre- altre cose nelle quali non volevamo più ecco scrivere le biografie granché nei testi a muro ma credo che questo potrebbe essere un ritorno molto interessante per dare più accesso alle opere e voilà cioè noto che queste differenze diciamo il mio ambito è sì europeo ma molto poco la pittura cioè non è un settore sì ci incrociamo su Marlène Dumas moltissimo quel quadro è bellissimo quel quadro è sconvolgente perché il crimine in questo caso la mestruzione è proprio l'essere pittore non le mani però in generale è un mondo dove diciamo non totalmente mio perché avvengo avvengo I appear dopo l'arte concettuale e l'arte povera per cui per esempio Karol Rama non era inclusa fino a recentemente è stata recuperata da questo mondo diverso un quadro che mi è piaciuto molto e che non conoscevo era dell'artista cubana sì pazzesco pazzesco e mi fa pensare cioè dal mio punto di vista se avessi scritto io un testo avrei scritto della Baia dei Porci del pericolo atomico in quel momento di questo angelo della morte che porta forse la bomba nucleare cioè c'era un era un momento pazzesco attorno al 61 63 se si stava in Cuba e poi penso che probabilmente questa macchina da cucire può essere anche ligata all'idea appunto della tecnologia e di certe paure anche heideggeriane contro la macchina tipiche e questa figura probabilmente è la madre se lei mi dice che la madre era una sarta quindi chi è Dio che nascerà? L'artista sano narcisismo se posso a proposito di questa questione delle biografie io una cosa che non ho detto stasera ma di cui avevo avuto occasione di parlare quando ho recensito il tuo libro è che spesso i testi i libri che hanno parlato di artiste si concentravano esclusivamente sulla biografia e quindi era un po' sempre le favole della buonanotte e delle ragazze ribelli c'era sempre quel tipo di modello qui tu parli delle opere che come abbiamo detto in apertura di serata è secondo me la grande novità del libro però la biografia serviva perché molte sono dimenticate e dobbiamo capire come ce le siamo dimenticate poi devo dire che è anche un omaggio credo molto italiano forse al nostro modo di raccontarci l'arte noi abbiamo una tradizione importante di letteratura artistica letteratura artistica anche se negli ultimi anni per esempio il concetto di letteratura nello studio accademico si è molto ristretto per cui adesso la letteratura artistica ci sono pochissime cattedre che la insegnano forse non ce ne sono più in molte università però veniva considerata letteratura che parlava d'arte e noi abbiamo inventato effettivamente con Vasari ma anche prima di Vasari in realtà già c'erano l'idea proprio di parlare d'arte però non a caso il libro di Vasari si chiama Le vite si chiama Le vite però se poi leggiamo Le vite di Vasari in effetti la maggior parte dei testi sono dedicati ai quadri agli affreschi agli edifici ai manufatti architettonici quindi alle opere e tuttavia noi le chiamiamo Le vite perché i pezzi in cui ci racconta Le vite dei pittori sono determinanti nel modo in cui poi il pittore stesso resterà con noi i brani di Vasari su Piero di Cosimo che è uno dei miei pittori più amati ma i brani sono alla fine sono 20 righe credo in cui parla della stranezza di quest'uomo che trovava poesia in uno sputo sul muro e ci fa capire che già stava nell'arte moderna insomma nelle crepe del muro che amava gli animali sono pochissime righe in cui Vasari ci illumina però dopo averci parlato dei suoi quadri dei suoi mostri Piero di Cosimo è un pittore le cui pitture sono piene di mostri e poi a certo punto ci dice anche che uomo era questo che dipingeva questi mostri e quindi ci allarga lo sguardo e quindi credo che inconsciamente non è una cosa che io ho voluto quando ho cominciato a scrivere di arte però sicuramente mi sono nutrita di questo modo di parlare d'arte che è forse è stato insomma un modo italiano penso alla vita di Reni scritta da Malvasia per esempio Malvasia trasforma Reni in un personaggio dostoevskiano grandissima letteratura cioè sono pezzi di letteratura assoluti poi la realtà parla dei quadri anche è molto bene perché fa exfrasis insegna a vedere però i libri più potenti sugli artisti in Italia l'hanno scritti degli scrittori perché comunque sono scrittori questi che a volte in passato sono stati considerati veramente scrittori poi sono stati relegati nella categoria scrittori di cose d'arte che non è non è una categoria credo involontariamente come scrittrice nel momento in cui sono andata a scrivere ho ricordato questo quindi assolutamente adesso ho capito la fonte è proprio Vasari sì no perché in effetti c'è una proporzione è poco la parte biografica in tutti e poi è come va a fondo su l'opera e poi qualche cenno sono come qualche pennellata di biografia sì quindi sono le vite di Vasari in chiave delle donne e oggi sì molto bene molto bellissimo bellissimo veramente mi piace moltissimo vorrei leggere la seconda metà certo io purtroppo devo interrompervi perché siamo andati un po' molto avanti e invece credo che magari qualche lettore qualche lettrice vuole scambiare due parole con Melania e magari farsi firmare il libro quindi io vi ringrazio di essere venuti qui stasera e vi consiglio davvero questo libro non abbiamo detto il perché del titolo forse questa è l'ultima domanda io ho fatto un'ipotesi di questo self-portrait però lascio a te se vuoi rispondere come è venuto fuori il titolo in realtà probabilmente ho pensato che volevo fare un autoritratto perché la soggettività delle scelte chiaramente è un autoritratto e soprattutto è come se fosse un ritratto un autoritratto collettivo in cui ciascuna o rappresentando se stessa o rappresentando la propria sorella la propria madre molto spesso sta tracciando raccontando una storia quindi ho pensato che fosse un termine da usare in questo senso dall'altra parte attivava anche un'altra cosa che va detta che le donne nella storia dell'arte poi hanno dedicato vasto spazio al self-portrait in senso proprio stretto del termine nel gergo artistico per ciò che significa ci sono alcune pittrici come Eleon Scherfbeck che c'è qui che praticamente ha fatto dell'autoritratto la propria quasi insomma il proprio soggetto e le donne hanno fatto del proprio corpo il proprio soggetto artistico quando anche al di là dell'autoritratto quindi mi sembrava questa centralità insomma di se stessa di se stesse di noi stesse da utilizzare insomma nel titolo ci avevo visto giusto era giusto allora io ringrazio Melania Mazzucco ringrazio il direttore del Castello di Rivoli e grazie a tutti voi grazie 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 grazie